Ti suggerisco di trovare un posto tranquillo e comodo, dove non sarai disturbato per tutta la durata della pratica. Puoi sdraiarti su un letto o su un tappetino, oppure sederti su una sedia con la schiena dritta. Se vuoi, puoi coprirti con una coperta o mettere un cuscino sotto la testa. Puoi chiudere gli occhi o lasciarli succhiusi, a seconda di cosa ti fa sentire più a tuo agio. Inizia a portare la tua attenzione al respiro, senza cercare di modificarlo o controllarlo. Nota semplicemente come entra ed esce dall'organismo, seguendo il flusso naturale dell'aria. Osserva le sensazioni che il respiro produce nel naso, nella gola, nel petto e nell'addome. Nota se il respiro è profondo o superficiale, rapido o lento, regolare o irregolare. Accogli il respiro così com'è, senza giudicarlo o criticarlo. Ora porta la tua attenzione ai tuoi pensieri. Nota i pensieri che passano nella tua mente, senza cercare di fermarli o seguirli. Nota se i pensieri sono positivi o negativi. Rilevanti o irrilevanti. Chiari o confusi. Logici o illogici. Nota se i pensieri sono legati al passato. Al presente o al futuro. Alla realtà o alla fantasia. A te stesso o agli altri. Nota ogni pensiero con curiosità e gentilezza. Continua a osservare i tuoi pensieri per qualche minuto, senza identificarti con essi o reagire ad essi. Se la mente si distrae e inizia a pensare ad altro, non preoccuparti, è normale. Quando te ne accorgi, riporta dolcemente l'attenzione ai tuoi pensieri. Accetta i tuoi pensieri così come sono, senza giudicarli o criticarli. Ora porta la tua attenzione alla qualità dei tuoi pensieri. Nota se i tuoi pensieri sono utili o inutili. Veri o falsi. Costruttivi o distruttivi. Realistici o irrealistici. Razionali o irrazionali. Nota se i tuoi pensieri ti fanno sentire bene o male. Calmo o agitato. Felice o triste. Sicuro o insicuro. Grato o insoddisfatto. Nota ogni aspetto dei tuoi pensieri con consapevolezza e accettazione. Continua a riflettere sulla qualità dei tuoi pensieri per qualche minuto, senza cercare di modificarli o controllarli. Se la mente si distrae, riportala ai tuoi pensieri con pazienza e benevolenza. Accetta i tuoi pensieri così come sono, senza resistere o scappare. Ora porta la tua attenzione alla localizzazione dei tuoi pensieri. Nota dove senti i tuoi pensieri nel tuo corpo, dove sono più intensi e dove sono più deboli. Nota se i tuoi pensieri si espandono in una sola direzione o in più direzioni. Nota se i tuoi pensieri coinvolgono tutto il corpo o solo una parte. Nota se i tuoi pensieri si muovono in modo armonico o disarmonico. Nota ogni sensazione che i tuoi pensieri producono nel tuo corpo con apertura e comprensione. Continua a sentire i tuoi pensieri nel tuo corpo per qualche minuto, senza cercare di spostarli o forzarli. Se la mente si distrae, riportala ai tuoi pensieri con compassione e distacco. Accogli i tuoi pensieri così come sono, senza attaccarti o scappare. Ora porta la tua attenzione al significato dei tuoi pensieri. Nota cosa rappresentano i tuoi pensieri per te. Quali emozioni, sensazioni, ricordi o immagini evocano. Nota se i tuoi pensieri ti connettono a te stesso o agli altri. Al presente o al passato. Alla realtà o alla fantasia. Nota se i tuoi pensieri sono il riflesso di ciò che sei o di ciò che vorresti essere. Nota ogni aspetto dei tuoi pensieri con apertura e comprensione. Continua a riflettere sul significato dei tuoi pensieri per qualche minuto, senza cercare di interpretarli o modificarli. Se la mente si distrae, riportala ai tuoi pensieri con gentilezza e curiosità. Accetta i tuoi pensieri così come sono, senza giudicarli o criticarli. Ora porta la tua attenzione all'intero flusso dei tuoi pensieri. Nota i tuoi pensieri come un tutto, come un flusso continuo di informazioni che entra ed esce dalla tua mente. Nota come i tuoi pensieri ti influenzano. Ti influenzano. Ti modellano. Ti trasformano. Nota come i tuoi pensieri sono il tuo collegamento con il mondo. Con gli altri esseri viventi. Con l'universo. Nota come i tuoi pensieri sono il tuo maestro. Il tuo amico. Il tuo alleato. Nota ogni aspetto dei tuoi pensieri con gratitudine e amore. Continua a sentire i tuoi pensieri come un tutto per qualche minuto, senza cercare di possederli o perderli. Se la mente si distrae, riportala ai tuoi pensieri con benevolenza e pazienza. Accetta i tuoi pensieri così come sono, senza attaccarti o scappare. Rimani con la tua attenzione ai tuoi pensieri per qualche minuto, sentendo ogni pensiero con consapevolezza e accettazione. Se vuoi, puoi ringraziare i tuoi pensieri per tutto quello che fanno per te, per la vita che ti donano, per le esperienze che ti permettono di vivere. Quando sei pronto, puoi iniziare a muovere lentamente le dita delle mani e dei piedi, a stirare le braccia e le gambe, a ruotare la testa e il collo. Puoi aprire gli occhi se erano chiusi, e tornare gradualmente alla tua normale attività, portando con te la sensazione di rilassamento e di presenza che hai sperimentato durante la mindfulness dei pensieri.